Pillole dal Duomo di Prato, brevi approfondimenti artistico-culturali per stare meglio. All'interno della Cappella della Sacra Cintola, nella parete sinistra in alto, si trova una scena molto particolare e romantica. Si tratta dell'incontro alla Porta d'Oro di Giovacchino e Sant'Anna. Gli affreschi della Cappella della Sacra Cintola sono stati realizzati tra il 1392 e il 1395 da Agno Logatti. Le storie rappresentate sono quelle di Maria e della Sacra Cintola. All'interno delle storie della Vergine, la seconda scena riguarda il momento in cui fu concepita senza peccato, ovvero l'incontro alla Porta d'Oro. Giovacchino, dopo essere stato cacciato dal Tempio, poiché la sua offerta non era stata accolta in quanto sterile, viene avvisato da un angelo di incontrarsi con la sua sposa Anna presso la Porta d'Oro di Gerusalemme. L'incontro fra i due avviene in un luogo pubblico, potremmo dire quasi affollato. Infatti dietro Sant'Anna si trovano due donne e dietro Giovacchino un pastore, che possono testimoniare il momento in cui avviene il concepimento di Maria. L'incontro alla Porta Aurea nella Cappella della Sacra Cintola, un episodio romantico negli affreschi di Agnolo Gabi.